La ricetta che mi sto preparando per realizzare è a base di maltagliata della pasta di Aldo In un guazzetto di piovra con la passatina di ceci Questi sono gli ingredienti che compongono la ricetta Olio extravergine, aglio, scalogno, pancetta, ceci, piovra, fumetto di piovra, pecorino e ammollicata di pane Andrò a soffriggere in olio di oliva dell'aglio e dello scalogno Rosolo a fuoco dolce la pancetta tagliata a julienne Aggiungo la piovra tagliata a rondelline Unisco con il fondo vegetale Aggiusto con sale e pepe Aggiungo la passata di ceci precedentemente emulsionata Completo con il fondo di piovra Ora vado a cuocere la maltagliata La pasta maltagliata può essere utilizzata in vari modi Gratinata, saltata, sguazzata, in fondi, in salse, verdure Ora vado a scolare la pasta Vedete che non si incollano Ora vado a guacciare nella salsa la maltagliata Condendo ulteriormente con del buon pecorino E un po' di pane ammollicato Per ultimo andiamo a mettere i ceci sgusciati Grazie 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 Grazie